Siamo qua a rappresentare la nostra società, la nostra squadra, una cosa nella quale noi crediamo fortemente. Grazie a Lavis anch'io sono diventato donatore del sangue e speriamo di essere da esempio per tanti, anche e soprattutto ragazzi giovani. Donare il sangue ha solo cose positive per se stessi e soprattutto anche per gli altri. Il messaggio è sicuramente un messaggio positivo, un messaggio di avvicinarsi alla nostra associazione, bisogna associarsi per diventare donatori e quindi questo è importante che avvenga in questa maniera. Di sangue c'è sempre bisogno, è un modo per tenersi controllati e fare del bene agli altri e quindi noi siamo ben disponibili ad aspettare i nuovi donatori che vorranno avvicinarsi. Noi come Sutirol per tutte le cose in cui riusciamo a partecipare lo facciamo più che volentieri e siamo felici e contenti di questa partnership e spero che il Sutirol, la squadra del Sutirol, nel corso degli anni possa continuare a avvicinarsi alla gente che ha bisogno. Noi abbiamo in questi ultimi mesi e anni, abbiamo installato una bella collaborazione con Avis facendo diverse iniziative, tra i quali invitando tutti i soci Avis allo stadio per la partita dell'Effekt Sutirol al Druso. Vogliamo poi ripetere questa cosa anche nei prossimi mesi, quando sarà poi fattibile entrare allo stadio e poi abbiamo fatto anche delle campagne di sensibilizzazione, soprattutto per i giovani, perché i nostri tifosi sono anche tanti giovani, altottesini e vogliamo far vedere attraverso i calciatori quanto è facile andare a donare sangue.